All'endate della SEPA mancano pochi mesi e poi come si svilupperanno i sistemi di pagamento, cosa faranno banche e imprese? Sicuramente ormai la migrazione alla SEPA che è programmata per febbraio 2014 è qualcosa che le banche e tutto il sistema sta dando già per scontato o comunque ha dato già per eseguito dal punto di vista di tutte le attività di implementazione tecnica e di tipo commerciale che era previsto. Le banche ora hanno una grande sfida perché dopo tutti gli investimenti, dopo tutto il focus dedicato a questa migrazione, a questo passaggio di standardizzazione, è evidente che ora devono cercare di costruire su questa baseline che può essere considerata la SEPA, questo nuovo standard di riferimento, tutta una serie di servizi a valore aggiunto per i propri clienti, clienti imprese, clienti retail che ovviamente hanno delle grandi aspettative, quindi il passaggio fondamentale sarà come le banche riusciranno effettivamente a soddisfare queste aspettative, che le aspettative saranno sia dal punto di vista quantitativo perché ovviamente le aspettative dei clienti sono quelle di comunque pagare gli stessi prodotti, avere gli stessi prodotti e gli stessi servizi a dei costi minori, quindi pagando meno la singola transazione e ovviamente con un livello qualitativo sempre adeguato e coerente rispetto a quello che il servizio è atteso. Quindi la grande sfida sarà proprio quella di poter associare a questi prodotti basici che possono essere considerati commodity, tutta una serie di servizi a valore, ripeto, sia per quello che è la clientela corporate, sia per quella che è la clientela retail, per proprio poi trasferire un valore al costo della transazione che possa comunque andare a integrare tutto questo business, tutto questo mondo di ricavi che è evidente deve essere comunque in qualche maniera tutelato o comunque deve essere indirizzato. Cosa sta facendo il CBP a supporto di questa azione? Il CBP sta cercando di supportare le banche in questo processo di cambiamento che vede appunto questo passaggio alla sepa come un cambiamento fondamentale nei paradigmi proprio di concezione dei modelli di business, quindi dove comunque le banche come dicevo devono ripensare i propri prodotti, i propri servizi e nel ripensarlo devono ripensare anche a delle forme diciamo di collaborazione e cooperazione differenti, quindi cercare di focalizzare la componente ricavi in un quadro competitivo lanciando nuovi prodotti, nuovi servizi, quindi cercando di dedicare, quindi di focalizzarsi su questo aspetto e parallelamente però cercare di capire come efficientare la macchina, come diciamo cooperare all'interno ad esempio di un network, di circuiti e quindi il CBP sicuramente si pone come si diciamo attore di outsourcing, quindi come dire un autore che può aiutare le banche ad efficientare le proprie macchine operative e quindi anche a rispondere a tutto quello che è diciamo anche un ambito di adeguamento normativo e comunque di demand che la macchina operativa deve affrontare, parallelamente un partner che può supportare nella generazione di nuovi servizi, quindi nel poter mettere a disposizione delle infrastrutture per creare nuovi prodotti e nuovi servizi e nel creare diciamo delle forme di cooperazione anche tra le banche stesse, quindi rappresentare anche diciamo una risposta in termini di cooperazione a dei nuovi player non bancari che diciamo fanno di questo anche nuovi modelli di circuito un valore aggiunto. Tra le nuove soluzioni che sono in fase di lancio c'è anche MyBank di cui il CBP è stata Pilot Bank. Sì, diciamo che proprio in questo quadro più competitivo, nel quadro dove effettivamente le banche devono iniziare a diciamo evolvere i prodotti e i propri servizi, sicuramente ci sono servizi rivolti appunto all'e-commerce come ad esempio MyBank, ma noi crediamo che appunto MyBank sia una delle iniziative ma ce ne saranno molte altre nel mondo del mobile, del peer-to-peer, iniziative che appunto potranno effettivamente portare nuovo valore ai nostri clienti e in tutto questo CBP cerca di essere diciamo un provider, come dicevo prima, che supporta le banche nel minimizzare gli impatti dal punto di vista della macchina operativa nel lancio di questi nuovi servizi, quindi il focus di CBP è oltre quello appunto di dare infrastrutture, quindi di dare la possibilità alle banche di accedere praticamente a delle piattaforme, delle infrastrutture, dei servizi, di commodity, anche quello di poter accedere a nuovi prodotti, nuovi servizi con una facilità di utilizzo, una facilità diciamo di avvio e di start-up molto maggiore rispetto a un'operatività completamente in sourcing. Le banche italiane hanno consapevolezza che una volta partita la SEPA hanno la possibilità di offrire questi nuovi servizi a valore aggiunto? Assolutamente sì, anche se finora come dicevo prima hanno focalizzato molto i propri investimenti su tutte le tematiche più di compliance, cioè quindi nel cercare di adeguare sistemi, processi a quello che diciamo è la compliance, quindi quello che impone la SEPA in termini appunto di framework, di standard e tutto diciamo l'ambito della compliance. Quindi ancorché diciamo ce ne sia forte consapevolezza è evidente che dal punto di vista degli investimenti soprattutto in un momento così difficile dove comunque le banche italiane stanno affrontando un momento di mercato anche così complesso, devono fare i conti appunto con gli investimenti che già stanno dedicando a questo tema della migrazione. Quindi noi crediamo che nei prossimi, diciamo soprattutto a partire dal fine di quest'anno, inizio del prossimo dove comunque ripeto ormai gli investimenti sulla SEPA saranno conclusi e terminati, lì tutto diciamo il focus sarà rivolto proprio nella creazione e nel lancio di questi nuovi servizi.